Anche per il 2019 il Comune di Agropoli, guidato dal Sindaco Adamo Coppola, rinnova la partecipazione alla Festa dell'Albero, giornata dedicata all'ambiente e alla sensibilizzazione del patrimonio naturale, diverse le associazioni del territorio che prenderanno parte all'iniziativa. Giovedì 21 novembre la Regione Campania, su richiesta da parte del Comune, offrirà le piantine autoctone che verranno piantumate nei luoghi appositamente individuati. Verranno coinvolti gli alunni frequentanti le scuole del territorio. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la Festa dell'Albero, affermano il Sindaco Adamo Coppola e l'assessore alla pubblica istruzione Rosa Lampasona, una iniziativa per sensibilizzare giovani e meno giovani e all'attenzione per l'ambiente. Abbiamo un solo pianeta e dobbiamo impegnarci per lasciarlo ai nostri figli migliori di come lo abbiamo trovato. Il rispetto per l'ambiente, la natura deve stare al primo posto e bisogna partire dai più giovani per costruire la speranza che il domani sia migliore dell'oggi.